Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento U-Boat, uno dei giochi che attendevo maggiormente l'uscita in questi mesi qui, quest'anno, e tradotto in italiano a cura della Cranio Creations, che ancora una volta davvero ringraziamo di cuore. Grazie ragazzi, al solito siete i numeri uno per avercene fornita una copia per la recensione. Grazie, apprezziamo davvero tantissimo. U-Boat è un gioco da 1 a 4 giocatori, dai 14 anni in su, e questa volta l'età secondo me azzeccatissima, per una partita media diciamo dai 60 minuti, dai 60 agli 80 minuti, quindi comunque un'oretta ve la porterà via. È un gioco in assoluto, forse anzi il gioco più interattivo che ho visto finora, e come in Chronicles of Crime c'è da usare sia l'applicazione per il telefono che va di pari passo col board game, col gioco da tavolo. Quindi dovete scaricare, anche in questo caso, un'app dall'app store del vostro telefonino, gratuita ovviamente, direttamente per giocare con U-Boat. Il gioco è inventato nel periodo d'oro dei sottomarini, in seconda guerra mondiale appunto degli U-Boat nazisti, ed è inventato dal 40 al 44, appunto nel periodo d'oro in cui i sottomarini attaccavano le forze alleate e soprattutto i convogli inglesi per broccare la linea di rifornimenti degli alleati. Come avete visto sicuramente nel film, nel bellissimo film di guerra a Dunkirk, quando sulla spiaggia di Calais c'erano gli inglesi che cercavano di passare la manica per andare in Inghilterra, a parte per spostare le truppe ovviamente dalla Francia all'Inghilterra, perché nel 40, nel 41, quando è stato, c'era l'avanzata nazista che stava prendendo tutta la Francia, e stava per prendere soprattutto le coste. E se vi ricordate c'è una scena in particolare quando le truppe inglesi, i soldati, montano a bordo di un caccia torpediniere e si vedono arrivare due siluri che l'affondano, sparati ovviamente dallo U-Boat, che è quello in questione qui nel gioco. Tutto quanto il gioco è ambientato ovviamente in quella parte di mare e quindi nell'oceano atlantico e voi sarete un equipaggio di giovani cadetti alla fine, primi ufficiali, ma comunque un equipaggio inesperto, mettiamola così, ma comunque molto promettente, alla guida di uno dei sottomarini più letali della storia della Seconda Guerra Mondiale e il vostro obiettivo sarà quello di seguire il QG, gli ordini che viveranno in partiti, e di affondare le flotte, soprattutto in particolare modo il 90%, i mercantili inglesi e alleati comunque in generale, per fermare l'approvvigionamento appunto e bloccare l'avanzata degli alleati, quella che poi sarà la guerra in Europa. La scatola come dimensioni abbastanza contenuta e tra l'altro veramente i colori. Il tipo di scritta lo vedete metallica, un pochino arrugginita, ma soprattutto il disegno qui, ragazzi non ve lo nascondo, io sono di parte sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi tante volte ci sono giochi che fanno un po' schifo, magari che alla gente non sono piaciuti, che su BoardGameGeek hanno preso 5 come voto e io li valuto sicuramente più arti perché sono di parte e a me già un gioco della Seconda Guerra Mondiale mi piace, ma qui per davvero, in questo gioco hanno fatto la magia. Ragazzi sono tanti giochi cooperativi ma non ho mai visto qualcosa come U-Boat. All'interno il regolamento di gioco, che ragazzi non vi fate veramente scoraggiare perché è un regolamento abbastanza grande, sono tipo una trentina, trentacinque pagine e le regole descritte sono no tante, troppe, ma il gioco è veramente facilissimo in più, sia sul sito della Cranio che sul sito di U-Boat, che su internet, su YouTube, trovate tanti di quei tutorial che vi spiegheranno passo per passo cosa fare. Il gioco sembra difficile ma va sicuro, è uno dei giochi in assoluto secondo me più facili del mondo. Basta leggersi il regolamento e il manuale tattico, che vi spiega praticamente tutti gli ordini, tutti i comandi e le cose da seguire. Praticamente è un sunto delle regole principali. Poi anche la cavolata, cioè è una stupidata, lo ammetto, no? Però il sacchettino con la scritta Kriegsmarine dei nazisti, delle forze dell'asse, e dentro questo sacchettino praticamente ci verranno messi tutti i token dei marinai che poi vi farò vedere più avanti. Cioè una piccolezza, ma comunque è una cosa che già questo ti cala nell'ambientazione da morire. La mappa tattica, ovviamente per gli spostamenti via mare e per tracciare una rotta e un percorso marittimo, come vedete lo stretto, le coste della Francia, l'Inghilterra e l'Atlantico, come vi dicevo prima. Questo è il panorama di guerra in cui si muovevano gli U-Bot nazisti. Il cifrario Enigma, vi ricordate, no? Il codice nascosto, segreto, che i nazisti usavano per appunto comunicare fra di loro e soprattutto fra i Wolfpack, tra le squadre di U-Bot in servizio. Ed è bello che quando l'app vi manderà i codici, vi manderà delle scritte, voi automaticamente dovrete inserire la chiave nell'app che vi verrà chiesta e verrà fuori il messaggio che il QG ha mandato cifrato al vostro sottomarino. Boh, pazzesco. Le schede riassuntive, in questo caso del capitano di ciascuna classe a bordo, quindi questa tenetela sempre vicino al vostro ruolo, così avete tutti quanti i sunti e le cose che potete fare col vostro ruolo. Una scheda riassuntiva serve sempre. Le plance di ciascuna classe, quindi c'è la plancia del capitano, come vedete, dove verranno messe tutte quante le carte evento e questa qui è la sezione ordini, che si potranno dare all'equipaggio, mentre questo qui sotto, che va da un livello giallo fino a un rosso, è invece il morale delle truppe. Le schede degli equipaggi, questi sarebbero il direttore di macchina, l'equipaggio del capitano, il primo ufficiale e l'ufficiale di rotta. Il sestante d'attacco componibile, che servirà per vedere la rotta seguita dal vostro U-Boat, la posizione del vostro U-Boat, la posizione della nave o del convoglio nemico e la direzione del convoglio nemico. Oltretutto i nodi di velocità e anche la distanza in miglia marittime. Carte evento, carte del capitano, miniature dell'equipaggio, quattro per ogni tipo di equipaggio, quindi direttore di macchina, come avete visto prima capitano, più pezzi in plastica, in 3D, tra l'altro bellissimi, che sono il radar, il periscopio e poi ci sono anche tipo l'antiaerea e il cannone 88 mm. Questi da montare, come vedete dopo, sullo U-Boat, sul sottomarino. Righello, guardate tra l'altro bellino, ho scritto Kriegsmarine anche di qua, righello per tracciare le distanze in miglia marittime, più vari token dell'equipaggio, come vedete sempre, capitano e primi ufficiali, più tutti gli altri. Token, ovviamente, per la morte del personaggio, più altre cose, più cure, come vedrete più avanti, appunto, nel corso del video, e un goniometro che serve all'ufficiale di rotta per tracciare, appunto, la rotta in gradi che poi dovrà essere riportata sull'app del telefonino. E girando da quest'altra parte di qua, invece, questi sono dei token che stanno a dimostrare, messi sulla scheda del personaggio, che quel personaggio, in particolare quel membro dell'equipaggio dello U-Boat, ha appena attivato un ordine. Quindi ogni volta che verrà attivato un ordine ci sarà messo un segnalino accanto. Altri vari token, quindi tipo token verde per una riparazione semplice, riparazione media, riparazione critica, token di ferita, token di osservazione, poi tanto lo vedete leggendo il manuale, token di sigarette, che servono per ridare un pochino di morale e tranquillizzare l'equipaggio, e poi questa forse è la parte più bellina, perché questa la dovrete staccare tutta, vedete, è divisa in tanti piccoli pezzi, in 16 parti dovrebbe essere divisa, che questo ve lo chiederà il gioco in momenti particolari, quando dovrete fare una riparazione, e quindi qui forse è la parte più bella interattiva del gioco, quando dovrete fare una riparazione critica di una parte distrutta, comunque allagata delle U-Boat, il gioco vi chiederà nel giro di un minuto di prendere questi pezzi, buttarli dentro una bustina, shakerarli, tirarli fuori tutti quanti insieme, quindi sparsi sul tavolo, e dovete rimontare lo U-Boat, tutto quanto insieme, e se ce la farete a rimontarlo nel giro dei 30, 40, 60 secondi che vi darà l'app, avrete risolto il problema e avrete chiuso la falla, altrimenti il settore verrà allagato, cioè, sembra una cavolata, ma questi sono malati, ragazzi, sono dei geni. Token incendio, scosse, quindi cortocircuito, allagamento, gas letale, e qui rimasto al buio, quindi ci sarà da cambiare lampadine e cose elettriche, sempre ferite, attivazioni, qui in fondo ci sono le scorte, medicina, ah, tipi di ferite, qui sotto, il trattamento che richiede, e qua giù il tipo di oggetto, attrezzatura da utilizzare, quindi, come vedete, il fuoco dovrà essere spento da una pompa, con l'acqua. Poi, per un cortocircuito, vedete, ci sono altri tipi di cose, lampadine che andranno a sostituire qui, estintore per gli incendi e cose varie, ma soprattutto, la cosa più bellina per gli allagamenti, c'è la pompa di sentina, quindi per buttare fuori l'acqua, quando si allagheranno delle zone dello U-Boat. E ultimo, ma non meno importante, le varie sezioni dello U-Boat, che vi dovrete divertire a montare. More, tocca a te. Vai! E ora vi si fa vedere un pochino come funziona il gioco. E ora vi si fa vedere un pochino come funziona il gioco. Allora, ragazzi, non vi starò a spiegare tutte le regole, perché sono tante e semplici, per quanto siano tante, comunque vi assicuro, il gioco è una cavolata, che a vederlo così sul tavolo uno si mette paura, però è veramente facile, ma non vi farò un tutorial perché sarebbe inutile, cioè basta andare sul loro sito e ci sono già i tutorial, quindi non servirebbe a niente. Però vi darò un'idea di come funziona il gioco, appunto soprattutto per vedere se poi è un titolo che fa per voi o meno. Ma io penso di sì, ragazzi, perché qui che siate fan della Seconda Guerra Mondiale o che delle guerre proprio non ve ne frega assolutamente niente, fidatevi, questo è il gioco che ha sfondato la cooperativa. Questo è il gioco più cooperativo che ho mai fatto in tutta la vita e batte qualsiasi altro tipo di gioco, più o meno, con un'ambientazione molto simile. Allora, intanto partiamo dalla raffigurazione 3D del sottomarino, tra l'altro con l'antiaerea, il cannone 88 mm, vedete il periscopio, i due periscopi, la radio per le comunicazioni e la rappresentazione per quanto è fatto tutto quanto ad incasso di plastica, ragazzi, figata. Cioè, si può fare un gioco che volete, si può fare un gioco di carte e tutto, ma quando c'è una raffigurazione 3D di un sottomarino di New Boat dell'epoca, veramente già lì ti cala al 100% nella parte. Comunque, come vedete, il sottomarino è composto da varie sezioni sotto coperta e sopra coperta che sono la camera di lancio di prua, quindi per i siluri, l'alloggio degli ufficiali, la sala di controllo, l'alloggio dell'equipaggio, la sala motore diesel, la camera di lancio di poppa, perché ricorda i sottomarini, questo tipo di U-Boat poteva lanciare anche un missile da poppa, e in più la sala motore elettrico, perché questi sottomarini in seconda guerra mondiale avevano due motori, funzionavano che quando erano fuori dall'acqua, quindi viaggiavano a pelo dell'acqua, quindi la parte sopra era all'esterno fuori, e i marinari erano fuori a controllare se c'erano contatti navali, il sottomarino andava a diesel, quindi veniva attivato il motore diesel che aveva, insomma, un bel carico di carburanti dietro e poteva viaggiare per giorni, giorni e giorni, mentre quando il sottomarino si immergeva veniva spento il motore diesel e veniva attivato il motore elettrico. La velocità era dimezzata, quando era attivato il motore diesel lo U-Boat poteva raggiungere fino a 17 nodi marittimi, quando invece andava sott'acqua si raggiungevano col motore elettrico tipo 7-8 nodi, quindi comunque la velocità era più che dimezzata. Quando il sottomarino emergeva, come detto, veniva spento il motore elettrico, ha attivato quello diesel e si dava il tempo alle batterie di ricaricarsi, perché avevano una durata di dalle 12 alle 15 ore, poi ovviamente dipendeva dall'utilizzo che si ne poteva fare. E un sottomarino del genere poteva arrivare a una profondità di immersione dai 200 ai 250 metri, ma contate che c'era una soglia di tollerabilità del 230 ai 250 era una soglia critica e si rischiava veramente l'implosione, quindi diciamo sui 200-215 metri di profondità. La plancia del capitano, questa in assoluto è la figura più importante del gioco, perché sarà la figura che darà gli ordini, gli ordini a tutto l'equipaggio. È il capitano che decide quello che deve succedere a bordo. Se il giocatore che interpreta il capitano non ha esperienza, va bene, alla fine è un gioco, quindi se la farà a partita dopo partita, ma se il capitano non sa dare gli ordini, la partita è persa, perché il gioco non può andare avanti fino a che non è il capitano a dare un ordine. Come vedete ci sono 4 miniature, che sono il capitano, vedete ogni base è differente, l'ufficiale della prima guardia, il silurista, e un altro silurista, con le varie pedine sopra che poi dovete muovere all'interno delle sezioni degli obot. Poi ci sono qui il tracciato degli ordini, che ogni volta che verrà impartito un ordine dovrete spostare questa figura qui sul tracciato, e una volta che sarà arrivato in fondo, per quel turno di guardia non potrete più dare ordini, e quindi dovrete iniziare a scalare di ogni ordine in più che darete, dovrete invece di muovere questo mino qui, di questa miniatura, scalare quella sotto che è il morale invece delle truppe, perché gli uomini saranno stremati. E ogni volta che arriverete su una freccettina, come vedete qui c'è una freccia, qui c'è una freccia, qui uguale, qui uguale, sono 6, ogni volta che scalerete dovrete girare una di queste carte sotto la freccetta e dovrete leggere quello che c'è scritto sotto, perché magari potrà succedere che un membro dell'equipaggio si sente male, oppure un altro fa un mutinamento, insomma ci sono tante cose. Il capitano, ribadisco, è quello che dà gli ordini, quindi è il giocatore che in assoluto comanda il gioco. Gli altri giocatori non possono fare niente, niente di loro spontanea volontà se non è il capitano a dare un ordine. E in più il capitano ha questo in cima le sue carte. Capitano, che è un mazzo che lui conosce, può vedere già dall'inizio e potrà girarsene, le ho messe coperte ma dovrebbero stare scoperte, lui potrà girarle ed utilizzarle nel momento del bisogno. Sono carte che alla fin fine danno dei bonus. Quindi il capitano è colui che dà gli ordini al sottomarino. Ragazzi, scusate un po' per le riprese ma il gioco è molto grande e il tavolino dell'IKEA ci entra a malapena. Comunque, sempre partendo da questo lato qui perché la disposizione del tavolo è come ve la facciamo vedere proprio da manuale, c'è il direttore di macchina, il macchinista, il meccanico e un altro meccanico. Questa è la squadra dei direttori di macchina e dei macchinisti sono quelli che si dovranno occupare di tutte le questioni dello U-Bot e soprattutto delle riparazioni perché loro sono la squadra equipaggiata per fare riparazioni. Ragazzi, scusate se non abbiamo messo tutti i token sul tavolo però non ci avevamo posto quindi i token sono al momento dentro le bustine e poi comunque ve li potete vedere da soli direttamente leggendo il manuale. Comunque, questa è la squadra delle riparazioni ma soprattutto i membri della squadra dei direttori di macchina sono quelli incaricati non tanto delle riparazioni come vedete ma anche della profondità del sottomarino quindi dello U-Bot sulla scheda la vedete profondità fino a 100 metri è una cosa tranquilla di salvezza abbastanza stabile 150 si va su una profondità media fino a 2-2,60 su una profondità che è a picco insomma il livello più basso possibile raggiungibile dalle U-Bot e quindi il direttore di macchina dovrà sempre parlando col capitano e col primo ufficiale addirittura posizionarsi dovrà sempre tenere attività queste cose sulla profondità del sottomarino e da quest'altra parte invece la velocità del motore quindi stop il sottomarino è fermo come vedete leggermente indietro indietro tutta indietro per fare un retromarcio oppure avanti ad agio a mezza o a tutta quindi la velocità del sottomarino e la profondità del sottomarino dovrà essere sempre tenuta sott'occhio dal direttore di macchina e tutte quante le riparazioni dello U-Bot avverranno tramite questa squadra la squadra del primo ufficiale dove abbiamo il primo ufficiale il marconista quindi alle comunicazioni il timoniere e un altro timoniere questa è la squadra più importante del gioco alla fin fine perché è il primo ufficiale quello che utilizzerà l'app sul telefonino che ora vi faremo vedere successivamente comunque non solo ci sono i primi ufficiali i marconisti quindi quello che è incaricato anche di risolvere le comunicazioni Enigma nella sala comunicazioni ed usare anche l'idrofono però è soprattutto la cosa più importante è che ci saranno anche i medici come vedete hanno un segnalino che fa vedere le cure quindi loro sono incaricati anche di prestare cure all'interno dell'u-boat dell'equipaggio e in più come vedete qua sotto ci sono tutte le carte per i tipi di ferite come vi ho fatto vedere i token che potrebbero capitare quindi ferite all'equipaggio incendi gas velenoso quindi quando viene colpito magari perché no il motore a diesel potrebbe mandare fuori dei gas e dei fumi nocivi che potrebbero fare male all'equipaggio e poi scosse e cortocircuiti più altre carte evento e casualità che potrebbero capitare all'equipaggio quindi ricordatevi che la squadra del primo ufficiale è quella che non soltanto collabora col capitano perché quando il capitano dà un ordine di solito è il primo ufficiale che è il primo che lo fa a eseguire che lo porta a termine però soprattutto il primo ufficiale è quello che dovrà tenere l'app sotto controllo e per ultimi ma ovviamente non meno importanti l'ufficiale di rotta l'osservatore un altro osservatore e un terzo osservatore l'ufficiale di rotta è quello che dovrà tracciare le rotte da seguire per lo U-Bot quindi altro ruolo importantissimo perché è quello che è il giocatore che dovrà tenere conto della posizione dell'U-Bot sulla mappa strategica e soprattutto delle manovre quindi se una manovra di attacco o di fuga o di immersione o di immersione sarà sbagliata tutta quanta la colpa sarà ovviamente dell'ufficiale di rotta che più di tutti dovrà sempre tenere conto ed aggiornare in tempo reale qui sulla mappa posizioni del sottomarino del nostro U-Bot dei convogli che troveremo delle distanze in miglia marittime e della velocità in nodi marittimi e in più in quello è il giocatore incaricato di tracciare la rotta come adesso vi farò vedere sempre parlando dell'ufficiale di rotta è quello che secondo me o almeno io giocherei quello è una parte critica ma forse è quella più bellina è quello che deve tracciare le rotte sulla mappa le schede sono un po' all'interno del gioco poi comunque le potete scaricare dal sito ufficiale e ristampare comunque nel gioco hanno messo anche un lapis all'interno che può sembrare una cazzata però tante volte quando compriamo dei board game ci serve il dado ci serve le schede ci servono i lapis le penne le gomme tutto quello che uno potrebbe dire ma io a casa magari anche semplicemente un righello non ce l'ho loro nel gioco ce l'hanno già messi e quindi ovviamente il voto della recensione finale si alza perché sono stati attenti a queste cose comunque il ruolo più importante per tracciare le rotte è quello dell'ufficiale di rotta che lui potrebbe dire ok io so che perché all'inizio dell'avventura il gioco vi dirà che ne so vi trovate nel settore 81 ok quindi voi sapete che partite dal settore 81 il gioco potrebbe dirvi va bene seguendo la costa inglese dovete andare la vostra missione sarà arrivare nel settore 41 quindi questo è il punto d'inizio l'81 e il 41 è il punto d'arrivo intanto una cosa bellina prendendo il righello così unite i due punti tipo che ne so da 41 a 81 e tracciate una linea sul foglio quindi questo è il punto A di partenza e il punto B di arrivo che poi potrebbe cambiare a seconda dei contatti che troverete o degli eventi però per arrivare alla missione fatto questo il giocatore dovrà prendere il goniometro metterlo su un punto qualsiasi e ricordatevi sempre cosa importante che lo 0 ok lo 0 che sarebbe anche il 360 deve sempre puntare verso nord quindi deve sempre puntare verso l'arto quindi lui lo andrà a mettere sul punto 81 con lo 0 a nord l'ha fissato ovviamente come vi ho detto sul punto di partenza e andrà a vedere i gradi per arrivare sull'obiettivo quindi seguendo questa riga lui vede che a 340 è la rotta da seguire quindi l'ufficiale di rotta parla col capitano e col primo ufficiale gli dice capitano la rotta da seguire per il nostro tracciato è 340 e subito il primo ufficiale che è quello che usa l'app dovrà andarlo a portare sull'app che ora vi faccio vedere anche sull'app c'è un tutorial fatelo seguitelo perché vi spiega assolutamente tutto noi facciamo gioca potete fare missioni singola missioni collegate oppure una vera e propria campagna che vi porterà da un panorama di guerra che va dal 39 al 44 45 quindi più missioni ovviamente se ne fallerete una la campagna sarà finita comunque voi di base fate singola poi missioni di addestramento che è la cosa migliore in assoluto da seguire prima missione di addestramento partendo dall'agosto del 40 voi cliccate vabbè vi fa tutto quanto un briefing e vi dice la preparazione le carte che dovete mettere modifiche alle regole e le abilità speciali quindi queste leggetele prima così preparate il tavolo a questo punto ovviamente per divise per classe perché come vedete c'è il capitano poi vi dice il primo ufficiale nessuna modifica ufficiale di rotta e direttore di macchina ok questa è la preparazione noi facciamo vabbè abbiamo programmato tutto facciamo prossimo il briefing ovviamente di missione e poi cliccate su inizio missione lasciate l'app caricare un attimo e a quel punto sarete catapultati nella visione dell'app c'è anche una voce che parla musiche di sottofondo quindi ragazzi anche in immersione quando vi attaccano si sente il sonar o l'idrofono che inizia a suonare quando ci sono dei bersagli e questa schermata il primo ufficiale la dovrà tenere sempre sott'occhio perché questa schermata vi dice cosa sta succedendo nella fattispecie ad esempio dice lo scarico del motore diesel richiede manutenzione come vedete sezione 5 qua giù a destra potete scegliere il tempo reale quindi veramente passano i secondi il tempo è fermo e lo potete seguire da orologio oppure tempo leggermente velocizzato durante un'azione tempo velocizzato se dovete fare una rotta e non volete aspettare perché davvero ragazzi se ci vogliono 5 ore ci mettete 5 ore reali quindi dovrete velocizzare e poi il tempo di transito appunto se volete seguire gli eventi un pochino più velocemente allora qui sono tutte le cose che l'equipaggio dovrà fare dalla prima all'ultima qui ad esempio ci dice come vedete lo scarico del motore diesel richiede manutenzione a questo punto qui il capitano dovrà dare l'ordine al di solito sono i direttori di macchina che fanno le riparazioni però potrebbe essere dato l'ordine a qualcun altro che vi ricordo che l'unica regola è se voi mandate un personaggio che ne so un direttore di macchina a fare una riparazione lui ha l'abilità speciale della chiave e quindi fatta quell'azione userà soltanto un'azione delle sue tre che può fare in un turno di guardia però se ci mandate qualcuno non addetta alla riparazione magari un marconista la riparazione perché un equipaggio in un sottomarino è molto addestrato la riparazione la potrà fare comunque ma invece di usare un'azione ne userà due e quindi all'inizio uno dice ok devo mandare qualcuno a riparare il motore diesel vediamo si clicca qua giù in basso a destra su riparazioni come vedete ci sono le varie riparazioni qui sotto elencate dall'app che vi dicono quanti marinai dovete mandare quindi in questo caso 0-2 dato l'ordine il direttore di macchina prende e dice ok io mando in questa sezione del sottomarino due miei marinai per ripararla quindi si clicca qui si mette il valore dei marinai che sono andati a ripararla potrebbe essere uno potrebbe essere due magari ci hanno mandati quattro per fare prima e cliccheremo ok qui la spunta verde e come vedete ci sono due marinai che stanno lavorando e quando il lavoro sarà finito sarà l'app ad avvisarvi e la barra verde scomparirà del tutto torniamo indietro tra le altre cose c'è la velocità per impostare come vedete la velocità del sottomarino che attualmente è ferma perché quando inizia l'avventura il sottomarino è sempre ovviamente fuori dall'acqua quindi non è non si è ancora inabissato la rotta da impostarla quindi vi ricordate no capitano la rotta da seguire 3.40 voi lo mettete su 3.40 vabbè 3.42 più o meno è lo stesso non si sbaglia di tanto 3.40 e premete verde il gioco vi dice questo è il ruolo del primo ufficiale dichiarare la rotta si devono trovare i personaggi nella sezione 3 e c'è bisogno di due personaggi con l'abilità timoniere come vedete equipaggio in posizione capitano dice si equipaggio in posizione primo ufficiale equipaggio in posizione ok proseguiamo e quindi ora il sottomarino ha cambiato rotta e inizia ad andare verso il 3.40 che abbiamo scelto però non c'è velocità quindi si darà l'ordine di alzare la velocità e diciamo che andiamo avanti tutta tanto al momento non ci sono contatti né niente allora possiamo andare avanti al massimo livello si clicca avanti tutta ci dice direttore di macchina nella sezione 5 e c'è bisogno di vedete due addetti al timone quindi noi diciamo ok equipaggio in posizione ce l'abbiamo il sottomarino comincia ad andare ovviamente ragazzi potete mettere anche il gioco in pausa se ci avete un attimo un casino ci avete da parlare fra giocatori per quanto il gioco è in tempo reale potete anche tranquillamente mettere in pausa poi ci sono gli armamenti per armare il cannone da 88 mm la contraerea allagare i comparti siluri e lanciare i siluri ma quello tanto ve lo dirà il gioco perché non potete lanciare i siluri se non avete bersagli ricordatevi in tutto lo U-Bot ha 14 siluri a bordo quindi usatele con parsimonia perché scaricati questi 14 siluri la missione sarà finita in più le riparazioni che avete visto e gli strumenti quindi questi sono gli strumenti di tipo il codice Enigma che cliccandolo vi darà un cifrario che voi con il foglio dovete andare poi dopo a interpretare tempo rimasto per completare la missione ribadisco in tempo reale quindi 20 ore la batteria del motore elettrico e poi c'è anche il sestante che serve anche quello ovviamente per tracciare le rotte dice ufficiale di rotta si deve trovare nella sezione 8 ed avere come requisito il sestante lo potete usare anche se non avete questo requisito come vi ho detto però invece di consumare un'azione ne consumerà 2 ok e lui ci dice il gioco vi trovate nel quadrante AN38 quindi voi andando sulla mappa dovrete trovare il quadrante AN38 questo vi serve lo potete usare il sestante solo quando il sottomarino è emerso e quando il cielo è limpido perché non è una cosa che si può fare da sott'acqua non c'era ancora il GPS ragazzi in quell'epoca quindi si andava ancora d'occhio nella marina militare della seconda guerra mondiale dovrete mandare un ufficiale nella sezione 8 quindi sopra coperta guardare col binocolo e se il cielo sarà limpido potrete e non sarà ovviamente anche notte perché servono vari riferimenti anche col cielo dovrete potrete trovare la posizione e la direzione quindi voi saprete che il vostro sottomarino in quel momento si trova nella sezione AN38 andate lì e tracciate la nuova rotta per ultima cosa quando avrete gente sopra coperta non andate mai sott'acqua dimenticandovi di dare l'ordine di tornare sotto coperta perché moriranno automaticamente voi dovrete cliccare qui e dire va bene io all'esterno tipo 3 ad osservare ok e automaticamente come vedete guardate la figata diventa un gioco in 3D in cui voi dovrete muovere e guardarvi intorno quindi bellissimo cioè io ho già la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo qui saranno gli osservatori sopra coperta a guardarsi intorno ovviamente come vedete ora sono le prime luci dell'alba si dovranno guardare intorno per osservare se ci sono contatti al momento che verrà individuato un contatto che ne so in una gradi 2.30 verrà riferito al capitano che il capitano darà l'ordine di cambiare la rotta magari all'ufficiale di rotta per andare in direzione del nemico e a quel punto sparare ed aprire il fuoco questa ragazzi è l'app l'app è la parte più importante del gioco parte finale l'ufficiale di rotta è anche quello incaricato di usare il goniometro per l'attacco questo qui è quello per l'attacco del sottomarino e come funziona vediamo tutta quanta la rotta come sulla mappano e mettiamo caso noi sappiamo che al momento stiamo andando per i 3.40 vi ricordate come era all'inizio 3.40 insomma 3.41 quello che era quindi noi questa è la rotta che stiamo seguendo quindi mettiamo la puntina nera che è il nostro sottomarino verso la rotta 3.40 abbiamo avvistato un contatto perché abbiamo avvistato un contatto tramite se siamo immersi tramite l'idrofono quindi potrebbe esserci un contatto a gradi 3.20 vi faccio l'esempio 3.10 oppure sinceramente si potrebbe essere sopra coperta se il sottomarino e lo U-Bot è emerso e quindi vederla ad occhio magari vedendola ad occhio viene fuori che gli ufficiali che sono fuori ci dicano abbiamo trovato un contatto a 300 ok quindi noi stiamo andando verso i 3.40 vedete la freccia e il nostro contatto è a 300 quindi noi giriamo la rotta del nostro U-Bot perché noi al momento stiamo andando verso i 3.40 e invece la rotta del nostro contatto perché magari il nostro contatto è a 3.10 ma si sta spostando verso i 2.90 quindi noi lo sappiamo e diciamo che la rotta del nostro contatto è esattamente al momento su i 2.90 quindi cosa dovrà fare a questo punto l'ufficiale di rotta l'ufficiale di rotta dirà allora vedete la zona l'angolo di tiro del sottomarino è sul fronte e sul retro ok perché ovviamente può sparare un siluro da dietro e tutti gli altri davanti ce n'è soltanto uno a poppa quindi noi siamo a 3.40 l'ufficiale di rotta il capitano dovrà dare l'ordine di calcolare la nuova rotta e l'ufficiale di rotta dovrà parlare col primo ufficiale che cambierà la rotta sull'app perché dovrà essere portata noi da 3.40 dovremo iniziare a girarci verso i 2.90 per intercettare il convoglio e a quel punto avere angolo di tiro quando il sottomarino sarà allineato si guarderà tramite l'app se c'è la possibilità di fare fuoco e se c'è la possibilità di fare fuoco si darà conferma all'app il capitano darà l'ordine di allagare i comparti siluri e sparare i vari siluri per affondare il nemico che potrebbe essere o un convoglio o una nave di rifornimento o perché no magari anche un caccio torpediniere e una corazzata sparato ovviamente l'app ci dirà se il bersaglio è stato colpito se è stato distrutto se è stato affondato o nel caso anche se risponderà al fuoco se risponderà al fuoco e il sottomarino sarà emerso subirà dei danni e rischiate veramente di perdere la partita in caso di un attacco potrete spostarvi sott'acqua ricordatevi sempre che spostandovi sott'acqua userete i motori elettrici e non quelli diesel andrete molto più lenti le navi sopra di voi andranno molto più veloci e quindi vi verranno magari sopra per sganciare i mine di profondità e a quel punto dovrete fare affidamento soltanto al bip dell'idrofono per capire a che profondità saranno sganciate le bombe ragazzi questo è il gioco io vi ho fatto un'infarinatura principale non vi ho fatto nemmeno vedere le pedine che si possono muovere all'interno del sottomarino perché quello ve lo leggete regolamente ripeto ci sono già i video di tutorial del gioco quindi è inutile che ve lo faccia io vi ho dato un'infarinatura per un gioco che secondo me è qualcosa di spettacolare ragazzi in conclusione il gioco è uno spettacolo assurdo vi ripeto non ho voluto spiegarvi tutte le regole perché ci voleva un video di un'ora e mezzo ma tanto sono semplici e le potete vedere direttamente dal sito il gioco è uno spettacolo gli voglio glielo voglio dare gli voglio dare un 10 su 10 forse 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 non se lo merita o nel senso avrei potuto dargli un 9 su 10 un voto di meno perché ci sono troppi token e qualche regola poteva essere snellita come dico sempre se c'è un'app è inutile mettere 2 miliardi di token per il cibo per le ferite per le cose varie poteva tenerne di conto l'app come insegna magari le case della follia le case della follia non c'ha 3000 token perché succede una ferita non c'è da mettere un segnalino sulla scheda lo dite direttamente nell'app quindi quello poteva essere leggermente snellito c'è troppo carico su questo gioco però le do 10 perché sono andati anche nelle cavolate cioè ti hanno messo anche il lapis ma ce l'avremo un lapis in casa per farvi vedere la cavolata ce l'avremo un righellino in casa ma vanno messo un righello con scritto Kriegsmarine cioè è una cazzata non è niente alla fin fine così è un pezzo di cartone però è una figata assurda più il goniometro e gli altri pezzi quindi sono stati attenti anche alle cavolate ti apri la scatola del gioco pronto giochi cioè non è che devi andare in giro per casa a cercare le varie cose e secondo me è un titolo bellissimo è un titolo spettacolare di cooperativa ma dove si deve cooperare per bene non è soltanto move le miniature ma qui anche l'ordine dato sbagliato o l'inefficienza di un equipaggio che non parla e non collabora fra di sé e qui perdete la missione quindi se cercate un gioco in cooperativa non ne troverete di meglio almeno fino ad ora perché questo U-Bot è un gioco che fa della cooperativa il suo punto forte poi io sono fanatico della seconda guerra mondiale magari voi siete fanatici del West o di un'altra ambientazione non vi galba la seconda guerra mondiale però se cercate un gioco in cooperativa poi vabbè sono affascinanti i sottomarini i Wolfpack della seconda guerra mondiale però se non vi piacciono i sottomarini io vi direi comunque di dargli una seconda possibilità perché il gioco merita è un gioco cooperativo dove poi la parte più bella è giocare con degli amici anche che non gliene freghi niente come ripeto ma verrà automatico dopo un po' rivolgirsi capitano al vostro amico che cosa devo fare che ne so allagare i comparti sidruri sparare fare fuoco oppure salire di profondità di 100 metri cioè è una figata assurda dove tutto quello che fa l'equipaggio deve essere preso in considerazione dal capitano e il capitano dall'ordine al primo ufficiale di riportarlo sull'app quindi se il capitano è un inefficiente e non sa veramente svolgere il suo ruolo la partita è persa quindi come voto complessivo a U-Boat li do 10 su 10 perché veramente magari ripeto gli ho dato anche un voto di più e magari potrebbe meritare anche qualcosina in meno però hanno centrato l'obiettivo hanno fatto un gioco per essere il padre dei giochi in cooperativa e ci sono riusciti e in più hanno tirato fuori un gioco dal kickstarter che ti ci hanno mandato veramente tante cose dentro ed è fatto veramente bene poi lo U-Boat fatto in 3D cioè mi viene voglia se non fosse di cartone così acqua e giocarci come un bambino quindi mi rimanda al tempo dei soldatini di quando avevo 7-8 anni questo gioco quindi è veramente spettacolare consigliatissimo trovate in descrizione tutti i link per acquistarlo ovviamente tradotto tutto in italiano anche l'app grazie alla Cranio e Cranio Creations a parte grazie che è sempre un piacere collaborare con voi siamo onorati e tutto e trovate il link in descrizione però io vi voglio ringraziare personalmente non è veramente una leccata ma è una cosa che da fan the board game ve lo dico proprio sinceramente grazie grazie per lo sforzo è il vostro lavoro è anche giusto però grazie per lo sforzo di prendere questi giochi magnifici e portarci in Italia perché ci avete portato questo ci state per portare Nemesis a breve voi avete preso giochi più belli dal Kickstarter e ce li state portando tra l'altro tradotti bene puliti anche tutto quanto nei regolamenti in Italia perché sono giochi che veramente qui uno ci può passare la vita perché in un gioco come Zombicide una partita ogni tanto e cose del genere questo è un gioco dove ti ci devi finì perché è bello da morire una partita tira l'altra quindi Cranio grazie di cuore ragazzi che dire 10 su 10 compratelo assolutamente link in descrizione fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e il gioco ragazzi è veramente uno spettacolo cioè l'avete vista anche voi ripeto vi ho spiegato due regole su 50 che ci sono quello guardate direttamente il regolamento e i vari tutorial però veramente fidatevi cercate un gioco in cooperativa lasciate sta tutti quelli che vedete lì dietro questo è il gioco in cooperativa veramente perfetto quindi ragazzi grazie veramente di cuore e ci vediamo a un prossimo video alla prossima